per cercare di stare connessa con me stessa, pratico meditazione. Sono nata in una famiglia dove gli animali sono sempre stati presenti, a partire dai cani, abbiamo un gatto, abbiamo le galline, i pavoni, mio fratello ha le pecore e le mucche, quindi per me è normalissimo stare a contatto con gli animali ed è bello anche perché per dire ai cani in casa sembra che gli manchi veramente solo la parola perché tu quando li guardi parlano con gli occhi. Allora, in realtà io non sono scaramantica, però ho tutti i miei modi di fare, il modo di concentrarmi, tutta la mia routine che ripercorro sia durante l'allenamento che poi nel giorno in cui c'è la gara, per aiutarmi proprio per cercare di stare connessa con me stessa, pratico meditazione e quindi quello mi aiuta molto sia dal punto di vista proprio delle gare, il momento della concentrazione, il momento della partenza, che tutto il resto nella vita di tutti i giorni. La mia disciplina principale, quella in cui sono sempre andata meglio, è il gigante, quella su cui anche punto e conto di più perché mi è sempre venuta un po' più naturale, mi sento completamente a mio agio ed è anche in quella dove sono riuscita a raggiungere i migliori risultati.